Salvatore Borsellino, ciclo staffetta, itinerante, l'agenda ritrovata, partiti da Milano e giunti qui, un significato profondo, il ciclista che pedala, pedala e supera le avversità, il rigore del tempo, il caldo, un impegno a non mollare, con un urlo significativo della folla, della gente che pretende giustizia, resistenza, resistenza. Sì, in effetti siamo partiti non solo da Milano ma siamo partiti da Ivrea perché simbolicamente abbiamo voluto riportare quell'agenda che è stata sottratta, la macchina ancora in fiamme di Paolo Borsellino e l'abbiamo voluto fare con la biciletta che è una metafora della fatica, dell'impegno che sono necessari purtroppo in questo nostro disgraziato paese per avere giustizia e verità. Da 25 anni sono passati 25 anni e ancora non c'è né giustizia né verità, ci sono stati dei depistaggi che come dei macigni sono stati messi sulla strada della giustizia e della verità. Noi facendo tutto questo in bicicletta abbiamo voluto proprio fare una metafora dell'impegno e della forza, della costanza che serve in questo nostro paese per cercare verità e giustizia. E per questo il nostro grido è resistenza perché dobbiamo resistere contro tutti i depistaggi, contro tutti i segreti di Stato, contro tutti gli occultamenti delle verità. Noi continueremo a resistere.